Il territorio di Brollo avrà un cinema ed un teatro al passo coi tempi. Grazie all'ultimo finanziamento ottenuto dall'esecutivo di Giuseppe Laccoto, ora si può dire che è prossimo il completamento della struttura, utile ad assicurare soprattutto ai giovani un luogo dove poter sviluppare la loro vena artistica. Riuscire a dare finalmente a Brollo un cineteatro è per me motivo di soddisfazione. Con questa somma di 342 mila euro che servono soprattutto per gli impianti tecnologici, per il sipario e le altre anche questioni di arredo, sicuramente il cinema sarà operativo a breve assieme a un altro finanziamento che abbiamo preso partecipando a un bando di 50 mila euro per le poltrone. Quindi io spero che da qui alla primavera il cinema possa essere pronto, dotato anche di tecnologie più avanzate. E finalmente quello che mi piace di più è dare la possibilità a tanti giovani di avere anche un teatro per la prima volta a Brollo dove ci si potrà cimentare anche con una scuola di teatro. Questo per me è motivo di orgoglio. Pensate di gestire il cinema, il cineteatro con un bando pubblico? Insomma non so se avete già delle idee oppure prematuro magari parlare di questo. Sicuramente noi ci appoggeremo a coloro che hanno già esperienza in questo campo. Faremo naturalmente delle trattative per capire chi ci dà più sicurezza ma anche più affidabilità perché questo è un campo particolare. Ma sicuramente quello che a noi interessa, come ho detto prima, è quello di avere anche durante il periodo invernale, autunno-inverno, sicuramente una stagione teatrale che possa attrarre nel periodo invernale tutte quelle persone che certamente non sanno cosa fare. Nel senso che dare un'offerta dal punto di vista dello spettacolo, del cabaret, ma anche dal punto di vista culturale può essere un'esperienza che per molti sarà attrattiva.